nel video precedente in bocca al lupo scuola bocca tu guarda papa quando un giudizio sono io che mi incontro erico e riccardo sospedale di su in giustizio incredibile ma anche un'area che fa subito nel triangolare insieme a me che sono già che io sono superman la rinata da vicino io la decido io decido io la decido quello che non gioca vai vai No aspetta 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 dai sbrigate però Ok io sono di Stryker Injustice sfida il primo a mandare la versione Una transizione di vento E' ultimate edition Tra l'altro nessuno ci ha mai giocato Quindi è innovativo per tutti E' la madre Fa un mega ponte rossa Ciao Io so il più bello Non è un po' che è che è il genito dietro No no Batman Ma che è come si è minato Sì vabbè ma si è minato Ah E che ti ti passavo Oh Se come fai io Che vuoddio Che vuoddio Che vuoddio Vuol dire No 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 Buu 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 18 Buu Buu E' un po' come c'è aspetta Ma che cazzo Ma cazzo Buu Buu Vaffanculo Pish Siamo a sapinale Eh sì Siamo a scella Eh Buu Buu E' buu E' buu Come si usava sapinale Come si può Ma sono morto No Usava Usava Pem 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 tacituo che fai ragazzo non so come si vuole e ce l'ho pure io però non so come si fa entri eeeh un po' eeeh ma fa' c**o vada o che è successo già che è stato per morire e va bene ma superman è troppo forte pepepepepe che c**o è e che c**o oddio staccato il tutto aiuto e more e superman la vince e superman la vince e sei la v e sei la v dai che giove il perdente superman mamma mia che spettacolo superman 1 a 0 direi di prendermi batman la flash dai 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 e io la giocherei Riccardo chi si è preso flash flash ci sta a casa di flash vabbè si gioca a prima volta metropolis wow youtube il premoto x c**o bambino bambino ah no vabbè oh ho fatto il c**o ho delle molecole eeeh 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 no no riccardo io spero il fish in parigi come ho fatto se vabbè eeeh ma vaffanculo vatte la piander no 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 ma che medicino alza di pezzo di merda che ne discutiamo ne riparliamo no madonna no raga eeeh raga eeeh ma non è superman no è cambiata pure la mappa chiediamo andiamo andiamo ragazzi buon anno mannaggia a culo oh calcione ingrato io te lo dico l'ho messo a 90 incinta riccardo vengono pure 48 secondi ma non mare è morta è bacchiato non devi vincere scappa che culo oh mi hai rotto il cazzo evita questo cazzo oddio muore flash oddio forse ultimo è un'altra l'argomento l'argomento il gioco del carriaco l'argomento diamantica mei personaggi ultima partita cammettante e allora io ti prendo wonder woman che è tu ma contro wonder woman vabbè allora è giusto giocare riccardo in casa no quindi nella villa wayne anzi a gotham direttamente dc odio che bello odio che bello chattava pa a ticassolo 8.8 tutti i figli ma io no posto no raga è troppo scarsa dai è troppo lenta no è troppo scarsa non si muove è lenta lenta no che cazzo come l'ha attiva non lo so è la mossa finale non so come l'ha attiva come fai a difendere guarda ho vinto questa sfida non è tutto io ho tipo 4 sfide che vincevo le fila vaffanculo e dai si si cazzo si fare il culo catwoman avanze sei di tu che fai te l'ha messa al culo non so non ce l'ho messo non ce l'ho messo bella iniziamo con quella di Mirko che sembra buona però mi hanno detto che fa schifo che devo fa? un po' di perla sul pane e peperoncino speziale cazzo c'era lo zoom tu non la metti così da notare che il pane annullerà il peperoncino poi con la se ne sa sicuro e metta te che cazzo sta cosa che stai non esagerà troppo il peperoncino io mi metto quanto io mi metto eh la madonna guarda guarda quanto te ne pare ma quanto mi pare secondo te te ne metto a me è due spicchi taglio non lo so io è una barchetta delle due cose no 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 così casca così casca così non casca veramente vabbè che casca e devi masticare non devi ingogliare ma c'è ingogliare la madonna nel cavolo te vengogliare ma che cazzo non casca masticare che si chiama ah rosetta è buono non è che buono non può essere stavo a tremare come un troppo così ancora no anche la luce per i momenti il peperoncino non si sente il peperoncino si sente vabbè non è una merda no 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 è forte però è resistibile cioè si può fa bene esperienze in merda insomma passiamo alla mia invece questa è la penitenza di Federico che dopo questa prova credo che manco sarà l'ultima volta sarà l'ultima volta che arriverò a terzo peraltro già scritto riesco a aprire sto cazzo non hai detto quale sarà la penitenza ah si mangiare due spicchi d'aglio e peperoncino masticando naturalmente non andando giù se cazzo riesco a capire sto cazzo di cosa mi dispiace lunedì prossimo del mondo mortaggio tutte quelle che mi hai fatto fa ah ovviamente poi nei prossimi sfide lunedì a quantità decide chi fa la sfida eh porca misera io non l'ho fatta non sai quanta gliene dovevo metta lui porca puttana ecce te lo metta poca poco come peroncino mi hai messo mi volevo essere di più molto di più 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 4 di questi lo sai cosa e 2 e 3 tagli la pasta se ne mette uno quindi vada vada ma tutti insieme ma sticare aspetta si ma stica tutto ci sta il tempo devo prendere il tempo che è il tempo eh 30 secondi tipo di mastica vedermi un po' tanto come lo ingoglio l'aglio non lo posso ingogliare intero eh ma Riccardo mi sa che il martedì prossimo non ci arrivo a me a me ma si vado a prendertes o non mi guiare no ultimo setto è inna l'aglio lo ha asustato lo ha messo mi sanzionato proprio no non mi guiare no non mi guiare mi guiare che fa se non è un cane è un il è un cane No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.